Signori, vi do il benvenuto ad una nuova serie del canale, ovvero i Tesori dell'Impero. Questa è la prima puntata ufficiale, anche se però c'è già stata una puntata speciale, volevo aprire un po' come fanno alcune serie tv, una puntata più lunga, uno special, dedicato al Luca Comics. Se non l'avete visto, andatelo a recuperare immediatamente, anzi, prima vedete finire questo video e poi andatelo a recuperare, comunque il link sarà nei crediti finali. Ma in cosa consiste questa nuova serie? Semplicemente una volta al mese, verso la fine del mese, farò vedere in video tutti gli acquisti nerd che ho fatto appunto durante quel determinato mese, da fumetti, manga, videogiochi, gadget, figure, insomma, chi più ne ha più ne metta. E lo scopo di questi video non è solamente il bullarmi nei vostri confronti per far vedere appunto i miei tesori, ma è anche appunto un pretesto per parlare magari di alcune serie, di alcune cose, mordi e fuggi, quindi proprio dare una mia opinione veloce a riguardo e soprattutto dare dei consigli su cosa comprare e magari cosa non comprare. Quindi magari vedete un determinato gadget, un determinato manga e io a quel punto lì vi dirò molto velocemente, se ne vale la pena, no lasciate perdere. Prima di iniziare però vorrei dire un paio di punti. Il primo è, state tranquilli, non saranno video lunghi tanto quanto quello del Luca Comics, quello lì era un episodio speciale, di una fiera, di una grande fiera come quella del Luca Comics, quindi ci sta. Ho cercato di fare il più veloce possibile e di dire il meno possibile, però ci ho provato in tutti i modi e meno di così non mi riusciva. Questi comunque saranno video molto più brevi, forse questo leggermente più lungo rispetto ai prossimi perché appunto ho periodo natalizio, sono stato un bimbo buono, quindi forse sarà leggermente più lungo rispetto ai prossimi. Il secondo punto è che la maggior parte delle cose che vedrete in questi video non è stata pagata a prezzo pieno. Quando mostrerò un oggetto di cui ho approfittato e di qualche scontistica lo dirò e dirò anche di quale tipologia di scontistica, ma se siete interessati ad avere degli approfondimenti sull'irrisparmio e su come se comprare tanto e spendere magari non poco, però magari un filo di meno rispetto al prezzo di vendita, fatemi sapere. Il terzo punto è anche il più banale, ovvero supportate il canale in modo da avere più iniziative di questo tipo. È molto semplice, iscrivetevi, lasciate un mi piace, attivate le notifiche, condividete per l'amore del cielo perché se condividete come ho già detto con un amico che condivide con un altro amico, con altri due amici, eccetera si fa una catena infinita, il potenziale è infinito. In descrizione trovate pagina Facebook e canale di Twitch. Canale di Twitch lasciate un follow così riceverete la notifica ogni volta che andrò in live ma sarò in live ogni sabato a partire dalle ore 14. Carico contenuti settimanali, quindi non è un'iscrizione a un canale fantasma che una volta c'è e dieci volte no. Carico contenuti settimanali, quindi supportate assolutamente tutto questo lavoro. Non vi costa niente, non vi chiedo dei soldi. Finalmente direi di iniziare con questo benedetto video, ma prima che mi è venuto adesso in mente in descrizione trovate una serie di link a miei video, quindi se vedete un qualcosa di cui magari ho già parlato in passato quindi magari vedete un manga e siete interessati a quel determinato manga e ne ho parlato appunto sul canale in passato, trovate il link in descrizione. E appunto direi di iniziare dalla sezione comics manga che è quella un po' più noiosetta quindi ce la togliamo molto velocemente, partiamo dai comics americani e partiamo con Suicide Squad Harley Quinn 37 e Harley Quinn 38 una grandissima serie che consiglio, poi io sono fan di Harley Quinn e da che ho memoria quindi per me è un acquisto assoluto, non ci sono scuse veramente perché io non la possa comprare ma anche per voi perché comunque è molto divertente, a volte abbastanza serio, belle storie, bei disegni e poi è Harley Quinn, cos'altro c'è da aggiungere. E poi questo ovvero il primo perché sono usciti due volumi, uno però costava 30 passa euro, non mi sembrava il caso magari più avanti vedo se comprarlo o no, comunque il volume dedicato a Stan Lee una vita di meraviglie e questo è quello da 10 euro ed è appunto una raccolta di alcune sue storie disegnate da lui, scritte da lui e qua avevo un obbligo morale nei confronti di Stan Lee quantomeno un volume comprarlo in sua memoria perché appunto purtroppo è venuto a mancare più di un mese fa oramai una grande tragedia all'interno del mondo nerd e appunto avevo l'obbligo morale, quando l'ho visto ho sentito proprio l'obbligo di doverlo comprare ma passiamo alla parte manga, vi ricordo che se vedete una particolare serie di cui siete interessati date un'occhiata alla descrizione di questo video perché se ne ho già parlato in passato troverete un link. Partiamo appunto da un manga di cui ho già parlato con Ghost In nella Locanda di Yuna numero 7 manga abbastanza buono, si è molto ripreso prima era molto anonimo, classico genere E.C., A.R.M però alla fine poi ha preso una direzione sua questo lo ammetto che lo devo ancora leggere comprato a scatola chiusa, vedo se farci un prima impressione o no però indovinate un po' per quale motivo l'ho comprato lo capite dalla copertina, piccolo suggerimento ovvero Record of Grand Crest War valuto se farci un prima impressione o no se sarà particolarmente interessante l'ultimo volume di Remember ovvero il Remember 17 annunciato lo spin-off ovvero Remember Unravel che comprerò sicuramente grande serie durata un po' troppo però fino a 17 volumi non l'avrei fatta arrivare comunque bellissimo finale assolutamente una serie che ho già consigliato in passato e vi consiglio tuttora poi ho deciso di recuperarmi sto recuperando piano piano perché non lo sapesse la serie di Tokyo Ghoul però ho deciso di comprare comunque anche l'ultimo volume uscito perché se aspetto che arrivo al volume 13 di Tokyo Ghoul di Tokyo Ghoul in questo caso Re aspetto veramente 20 anni quindi ho deciso comunque di comprarmi l'ultimo volume ovvero Tokyo Ghoul Re 14 piano piano mi sto comunque recuperando la serie Vita da Slime 5 si presenta da sé ha avuto questo boom enorme grazie all'anime consiglio di più il manga dell'anime perché secondo me ha dei bei disegni ha dei disegni migliori rispetto all'anime poi abbiamo Akamega Kill 0 7 questa è una serie molto discussa perché c'è chi piace tanto c'è chi mi ci ha fatto super cagare questo spin off prequel ovvero 0 forse sotto alcuni punti di vista è meglio anche della serie principale io non sono un grandissimo fan l'ho apprezzata o con tutta la serie manga però appunto dateci un'occhiata anche allo spin off poi abbiamo Triagix 16 che si presenta da sé ovvero poppe 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 no ho sbagliato così poppe ok però appunto scherzi a parte è un manga abbastanza buono siamo entrati in un in un arco narrativo molto interessante non so quanto sia recuperabile questo manga perché è molto vecchio è iniziato veramente tantissimi anni fan non ricordo nemmeno dove ho i primi volumi questa è invece una serie che straconsiglio se non l'avete fatto andate anzi con vergogna andate nella vostra fumetteria e recuperatela tutta ovvero Domestic Girlfriend questo è il numero 7 cioè guardate che capolavoro di disegno solo che nella copertina questo è Perfect Crime numero 5 non ne ho parlato questo sono quasi sicuro comunque straconsigliato molto psicologico e peraltro è anche un pretesto per dire che vediamo un po' se si vede questa linea qua non è un riflesso ma è perché è sbragata quindi consiglio uno dei primi consigli che vi do in questa serie di video controllate sempre la cover se presenta dei danni non fate come il sottoscritto che è un coglione non compratela perché se no vi troverete copertine con degli sguari enormi abbiamo poi Citrus numero 2 sempre più bello mi fermo lì solo che è sempre più bello un'altra serie che straconsiglio è Ex Arm questo è il numero 10 già solo che per la cover anche qua in questo caso va comprato molto bello molto sottovalutato forse però veramente molto bello questo manga che ho deciso di completare solo perché oramai avevo tutti gli altri volumi ovvero l'ultimo di High School DD il volume 11 non si conclude come la serie quindi non va oltre la prima serie si conclude con lo stesso finale della prima stagione quindi non va a recuperare Born New e compagnia ma assolutamente qua in questo caso consiglio più l'anime del manga Dr. Stone numero 2 ho deciso della fine di dargli un'occasione si sta rivelando un po' più interessante di quello che pensassi e poi abbiamo volume 8 di Kakegurui e il volume 3 di Kakegurui Twin una serie che è diventata bellissima ancora più bella già di quello che era soprattutto non sottovalutate questo perché magari dite ah vabbè uno spin off un prequel che schifo no fidatevi che anche Kakegurui Twin comunque ha dei bellissimi a parte che Kakegurui ha dei bellissimi disegni di per sé e comunque come vedete anche da questa cover nonostante il disegnatore sia diverso dalla serie principale secondo me non ha niente da invidiarli poi abbiamo un manga molto cazzone ovvero La Sirena Cannibale un manga di cui non ne consiglio l'acquista a meno che proprio non vogliate quel determinato manga oppure abbiate comprato tutto nella vostra fumetteria allora in quel caso compratelo per un manga molto cazzone molto ignora molto giapponese mettiamola così poi abbiamo Goblin Slayer numero 2 di questo vi posso già dire che c'è stato un primo impressione uscito recentemente e mi fermo qui andatelo a recuperare soprattutto perché parleremo di quella famosa diatriba scandalo che aveva creato Goblin Slayer all'uscita dell'anime quindi andate lì per vedere un approfondimento e poi abbiamo Vigilante My Hero Academia Legals su questo probabilmente ci uscirà un'eprima impressione lo devo ancora leggere comunque lo spin off di My Hero Academia sarà interessante vedere se sarà allo stesso livello della serie principale o se sarà proprio una cosa becerissima solo fatta per cavalcare l'onda della grande della grande fama di My Hero Academia passiamo ai videogiochi partendo da un capolavoro lo trovo infatti non è incelofanato perché appena comprato l'ho subito iniziato a giocare e signori questo è un capolavoro per ora non sto trovando veramente difetti ovvero Marvel Spider-Man comprato al GameStop con uno sconto al bacio ovvero gioco nuovo più Season Pass quindi tutti e tre DLC a 35 euro che è uno sconto assurdo appunto considerate che il gioco oramai è scontato lo trovate a 40 euro il Season Pass costa 20 fatevi un paio di calcoli io volevo aspettare una Game of the Year quindi gioco più DLC però alla fine è come se l'avessi comprata quindi veramente era uno sconto al quale non si poteva dire di no questo vabbè è un gioco Wii U sfagato 7,49 euro dal Media World Star Fox Guard con la specie di DLC di Star Fox per Wii U solo per puro collezionismo e sempre dal Media World con uno sconto della metà del 50% anche più del 50% perché infatti Neo ha 20 euro volevo anche qua aspettare una Game of the Year una release fisica è stata rilasciata solo in Asia e sarebbe stato troppo noioso alla fine l'ho trovato a 20 euro e ho deciso di approfittarne vedremo se poi in futuro comprerò anche il Season Pass questo poi è una piccola perla diciamo che vi mostro ovvero il Nintendo Classic il NES Mini con adattatore che mi è stato regalato praticamente era compreso nel prezzo non c'erano spese in più il motivo è molto semplice se avete letto una notizia di mi sembra un paio di settimane fa sapete il motivo per cui l'ho comprato se non la sapete sono fatti i vostri metterò magari un frame molto veloce ecco di quella notizia se siete interessati rallentate il video o andatela a cercare adesso passiamo ai gadget figure e compagnia partendo da questa questa magari è una serie che potremmo fare assieme una specie di una collezione che potremmo iniziare assieme ovvero quella dei vinili perché infatti ho deciso di comprare un po' di vinili per collezionismo di roba nerd ovviamente quindi magari di videogiochi soundtrack ho deciso di iniziare ovviamente con la regina ovvero il vinile di Cristina d'Avena le più belle sigle volume 1 il volume 2 non si sa se esista comunque questa magari è una serie che potremmo fare assieme magari tipo una volta al mese vedo se ne riesco a recuperare uno iniziamo questa collezione insieme poi 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 questo e questo qui è appena arrivato a casa Lord Otago infatti vedete ancora tutto bene in cellofanato ovvero il calendario 2019 di One Piece più il calendario che avete già visto questo qua però è del 2019 comunque lo vedete in un corto che ho fatto recentemente ovvero il calendario quello un po' più porcello sempre di One Piece oramai è tradizione che compro questo calendario mi dispiaceva saltarlo quest'anno pagati anche molto poco ovvero 1500 iene che sono circa 11 euro e comunque vi faccio vedere il calendario 2018 come vedete è un calendario anche abbastanza grande quindi secondo me una cifra non da poco arrivati dal Giappone con furore poi abbiamo un amiibo comprato molto così in memoria dei vecchi tempi di quando ai tempi compravo almeno un paio due o tre amiibo al mese quando c'era il boom di questa serie li trovavo in tutti i negozi anche non solo GameStop ma in tutti i negozi di elettronica li trovavi a tonnellate adesso non si trovano più nemmeno nei GameStop io quelli che ho visitato non li ho mai più visti e magari ogni tanto anche questo recuperarli un po' dato che da un po' che non li prendo però appunto ne ho già un bel po' alcuni no non si vedono si si vedono sono qua alcuni di quelli che ho mi piacerebbe anche questa collezione riprenderla un po' però appunto nei negozi e adesso si passiamo al momento Funko Pop questo peraltro mi piacerebbe un giorno quando diventerò super famoso da 200-300 milioni di iscritti mi piacerebbe fare una serie sui Funko Pop magari su consigli l'andare in giro fare specie di vlog di andare in giro in vari negozi dove comprarli e far vedere quali compro quindi fare una serie dedicata ai Funko Pop non mi dispiacerebbe abbiamo questi ovviamente anche comprati tutti scontati abbiamo il Funko Pop di Natale di SpongeBob pagato 10 euro dal GameStop questi sono tutti comprati dal GameStop perché vi dirò il motivo questo era per gli sconti natalizi 10 euro giusto perché a parte che è SpongeBob e poi perché fare qualcosa di natalizia vero è una tema poi c'è stato il 3x2 quindi compravi i Funko Pop il meno caro praticamente te lo regalavano e ho comprato questa esclusiva GameStop con il nostro amato bollino Dimersive con la skin Cobalto è un piccolo momento waifu peraltro perché poi infatti ho preso anche Nami di One Piece ok così e ovviamente se c'è Nami non può mancare anche Nico Robin Nico Robin è fatta molto bene peraltro anche Mercy però questa Nico Robin brilla più delle altre appunto questo qui ha fatto tutto con il 3x2 quindi ne ho comprati due e ne ho pagati due praticamente poi abbiamo questa che secondo me è una figata atomica ovvero il loot box la riproduzione del loot box natalizio di Overwatch esclusiva GameStop approfittate se siete interessati di comprarla perché probabilmente finita le feste verrà rimossa quindi dentro questo box pagato solo 35 euro e voi direte minchia 35 euro fidatevi è molto poco innanzitutto non è come loot box del gioco quindi dentro non troverete della merda anzi appunto c'è a parte una riproduzione molto carina con una bella confezione c'è dentro una calza random tra May e Tracer calza natalizia per fortuna mi è capitata quella di Tracer poi abbiamo il portachiavi natalizio del cosino di May di quella cosa lì non ricordo Nevino mi sembra che si chiami e poi ben due Funko Pop esclusivi di questo box ovvero May col costume di Babbo Natale e anche ovviamente Tracer con la skin natalizia se fate il conto sono più o meno questi essendo Funko Pop esclusivi vengono 20 euro l'uno quindi già solo che con questi due Funko Pop avete superato il prezzo di questa intera confezione infine la perla ci siamo tenuti per ultimo il piatto più saporito e mi piacerebbe a ogni video avere un qualcosa appunto un particolare perla qualche oggetto veramente figo raro cazzuto mi piacerebbe averla ogni video infatti tramite Shiratori Figures che ha mandato anche questa cartolina che ci ricorda di non comprare bootleg e mi accodo anch'io a questo messaggio non comprate bootleg piuttosto come ho già detto spendete di più per avere della qualità perché anche se pagate 20 euro se avete risparmiato ma vi trovate della merda tra le mani comunque se Shiratori Figures volesse sponsorizzare salutone io sono qui se volesse collaborare in futuro grande fan fateglielo arrivare questa signori è proprio il meglio del meglio e sto parlando di niente po' di meno che del nendoroid ufficiale di Kizuna Ai la cosa bella è che tutti adesso sono ma è meglio PewDiePie o T-Series chi vincerà la guerra degli iscritti ma chi è lo youtuber più figo d'Italia qual è quello più bravo sono tutte stronzate perché le virtual youtuber sono il futuro non solo di youtube ma di internet sto parlando di Kizuna Ai sto parlando di Shiro Channel sto parlando di Mirai Akari e sto parlando di Kaguya Luna se non li avete mai visti i loro video andategli a vedere perché vi faranno scompisciare io di Kizuna Ai guardo almeno tre video al giorno non sto scherzando e quindi non potevo non prenderlo cioè guardate com'è adorabile poi ci sono le varie pose come vedete è un pose un po' più classica qua c'è l'install face lei al computer c'è anche una riproduzione di specie tipo di video di youtube la smug face come si può non amare questa smug face quindi questo assolutamente è un signor acquisto veramente non potevo non prenderlo e se non conoscete le virtuali youtuber e soprattutto Kizuna Ai vergogna su di voi sulla vostra famiglia e sulla vostra mucca quindi questo era la prima puntata dei tesori dell'impero fatemi sapere se siete interessati a questa tipologia di serie a questa tipologia di video se ci sono degli aggiustamenti dove farli dei consigli se volete delle aggiunte degli approfondimenti su qualcosa in particolare fatemi sapere e noi ci vediamo nel prossimo video che probabilmente sarà un po' più breve io e Kizuna Kizuna Ai ecco vi salutiamo e ci vediamo appunto al prossimo video dei tesori dell'impero a Kizuna Ai